Salve amici di Elvezio, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Oggi parleremo di alcuni componenti che servono per l'assemblaggio degli sportelli delle varie versioni di Fiat 600. Tutto questo però dopo l'intro. Bene, parliamo del kit cornici raschia vetro della Fiat 600, modello con vetro discendente unico. Questo kit è composto da quattro cornici metalliche con già il raschia vetro inserito, naturalmente, che fa parte già dalla cornice cromata, come potete vedere fino alla curva, perché non avendo il deflettore, la cornice raschia vetro è tutta quanta intera. Diamo quattro pezzi di queste cornici, cioè un interno e un esterno del lato sinistro, un interno e un esterno del lato destro. Poi diamo le quattro giunture per rifinitura alla cornice cromata del raschia vetro. Diamo una bustina di graffette Zopas, come potete vedere questa è la graffettina che serve per il fissaggio della cornice alla carrosseria. E in ultimo, trattandosi di una macchina senza il deflettore a vetro discendente unico, diamo due pezzi di canale scorrivetro della lunghezza necessaria per fare le due porte. Vorrei spendere una parola su questo canale scorrivetro, perché è un canale scorrivetro, diciamo, di ultima generazione. Vedete, piega benissimo, curva, in maniera proprio perfetta e non fa quelle brutte piegoline che si vedevano sul canale scorrivetro che esisteva anni e anni fa. Bene, questo è un prodotto bellissimo, studiato proprio nei minimi particolari. Ripeto, piega perfettamente. Ed è tutto ciò che diamo sul nostro catalogo online, sul nostro sito internet. Trovate questo articolo racchiuso in un'unica voce che è kit cornice raschiavetro modello a vetro discendente unico. Possiamo dare anche i singoli pezzi. Naturalmente, se uno ha bisogno del kit, che ha bisogno di tutto, compra il kit. Immaginiamo che uno ha le cornici sue in buono stato e volesse cambiare solo il canale scorrivetro, ha la possibilità di acquistare solo il canale scorrivetro. Così come ha la possibilità di acquistare le sole mollettine e così come ha la possibilità di acquistare anche la singola giuntura della cornice metallica. Mentre prima abbiamo descritto il kit cornici raschiavetro della Fiat 600 a modello vetro unico discendente, adesso parliamo del kit cornici raschiavetro della Fiat 600 modello con deflettore. Questo, a differenza dell'altro, presenta un articolo in più che adesso mostreremo. Il kit cosa comprende? Così come nell'altro, comprende quattro cornici raschiavetro. Qua si possono vedere dal particolare che il raschiavetro inizia da un punto preciso perché lascia lo spazio al deflettore. Quindi diamo quattro cornici raschiavetro, sempre interno-esterno lato sinistro, interno-esterno lato destro. Questo è l'oggetto che prima non abbiamo visto, cioè è il canalino lato deflettore, cioè si inserisce nella colonna del deflettore e viene posto all'interno della colonna e naturalmente è di un diametro più sottile così come era l'originale. Anche in questo caso abbiamo le quattro giunture di rifinitura della cornice raschiavetro, così come anche la bustina con le molle zoppas che servono per fissare la cornice sulla carrozzeria. E in più, naturalmente in misura minore, diamo i due pezzi di canale scorrivetro, sempre stessa qualità come vi ho mostrato prima, curva perfettamente, la forma è sempre identica e questo è tutto ciò che riguarda il kit cornici raschiavetro modello con deflettore. Così come abbiamo parlato prima, sempre parlando del kit cornici raschiavetro, anche in questo caso il cliente può acquistare i vari pezzi singoli, tipo il canale scorrivetro lato deflettore, se ne ha bisogno, il canale scorrivetro comune, i quattro o la singola giuntura, così come le graffette di fissaggio delle cornici. Rimanendo in tema di vetri degli sportelli, abbiamo queste due guarnizioni deflettori. Queste sono una per il lato destro e una per il lato sinistro. Questo è un oggetto, è un articolo che troverete sul nostro catalogo sotto la voce guarnizioni deflettore e si vendono a serie, a kit. Si vende il destro e il sinistro tutto in un unico articolo. Questo è un oggetto che fino a pochi anni fa non era in commercio, viene fuori da uno stampo e da uno studio che è durato, se vogliamo, anni. È un articolo ben batto, ben costruito, costruito naturalmente da un'azienda italiana ed è calza perfettamente, monta perfettamente, è un oggetto veramente indispensabile se si vuole montare uno sportello a regola d'arte perché calcolate che la 600 ha già magari i suoi 50 anni e di conseguenza vi lascio immaginare cosa potete trovare se nel corso degli anni non è stata mai cambiata questa guarnizione. Ripeto, questo è un articolo che troverete in kit. Guarnizioni, deflettori, lato destro e lato sinistro. Tutti o quanto in un unico articolo. Rimanendo in tema porte abbiamo anche questi due articoli che non sono altro che le cinghie di arresto porta della Fiat 600 della versione naturalmente con le porte incernirata al centro ossia antecedente al 1965. Per concludere il discorso porte non mi resta che parlarvi delle guarnizioni vano-porta, giro-porta della Fiat 600 primi modelli e della guarnizione vano-porta della Fiat 600 degli ultimi modelli. E andiamo nello specifico. Questa è la guarnizione vano-porta della Fiat 600 con gli sportelli incernirati al centro. Questa da un lato è liscia dall'altro presenta queste righettine così come era nella versione originale. Questa guarnizione va ammontata intorno alla carrozzeria cioè nel vano dove poi va a sbattere lo sportello il cosiddetto vano-porta naturalmente rifinisce il bordino della carrozzeria. Subito dopo abbiamo invece la guarnizione giro-porta sempre della versione primi modelli sempre con lo sportello incernirato al centro. Questa guarnizione va posizionata intorno alla porta in questo caso ha questo tipo di profilo così com'era in origine. Diamo la quantità necessaria per fare tutte e due le porte e si trovano sotto la voce guarnizione giro-porta. In ultimo abbiamo la guarnizione vano-porta della Fiat 600 gli ultimi modelli e con già la modifica delle porte cioè le porte venivano incernirate sul davanti di conseguenza si aprivano si aprono come una macchina moderna. In questo caso la guarnizione diventa unica non più guarnizione giro-porta e guarnizione vano-porta ma è un'unica guarnizione che si monta sul vano-porta e fa da rifinitura e da tenuta dell'acqua e del vendo naturalmente. Questo è un unico pezzo naturalmente anche in questo caso diamo il quantitativo necessario per fare tutte e due gli sportelli e la troverete sulla voce guarnizione vano-porta ultimi modelli. Forse non ho detto che anche la guarnizione vano-porta primi modelli diamo la quantità necessaria per fare tutte e due gli sportelli naturalmente anche questo così come il resto degli altri articoli lo troverete sul nostro catalogo online sul nostro sito internet www.elvezio.com Bene amici dopo avervi illustrato nello specifico tutti gli articoli non esitate per qualsiasi dubbio qualsiasi chiarimento a utilizzare i nostri canali social che sia facebook che sia youtube che sia il telefono che sia qualsiasi cosa siamo sempre pronti e disponibili per qualsiasi dubbio o chiarimento non mi resta che salutarvi e vi lascio con un arrivederci al prossimo video